Siamo tornati al SAIE, quest'anno abbiamo deciso di coniugare la tradizione e la storia con l'innovazione. Abbiamo anche una parte che è relativa alla decorazione, qui abbiamo alcuni esempi dei corsi di decorazione che facciamo, nel frattempo c'è un piccolo esercizio di rivitalizzazione e restauro dei vecchi moduli in legno. Abbiamo anche nell'angolo, come vedete, il servizio lavoro in cui ci sono momenti di incontro, di matching fra le imprese e i candidati. Qui abbiamo una testimonianza anche fotografica, potete vedere quello che era la scuola all'inizio del secolo corso. Il mestiere di per sé, negli ultimi decenni, non è cambiato molto. I salti paradigmatici, le innovazioni, arrivano sempre all'improvviso. E noi sappiamo che l'innovazione in questo momento è veramente alle soglie. Ci sono diversi driver che ce lo segnano, che sono legati sicuramente alla digitalizzazione, alla sensoristica, all'utilizzo di nuovi materiali, tecniche di costruzione, la stampa 3D. Tutto questo ci proietta verso un mondo che è quello che noi cerchiamo di alimentare formando una sorta di vivaio con i nostri ragazzi che si affacciano sul mestiere.